Una galleria di idee imprenditoriali ed artistiche che animerà la vita culturale di Palazzo dell'emiciclo fino al 4 dicembre. Un evento organizzato dalla sezione aquiliana della Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Media e Piccola Impresa che vuole essere, come indica il titolo, una vera e propria chiamata alle arti. Call to the Arts, infatti, presenta alla città una selezione dei migliori talenti in ambito creativo e scientifico. Da un lato la Sala Epogea diventa luogo di narrazione, di buone prassi di sviluppo imprenditoriale e locale. Dall'altro la Navata dell'emiciclo ospita le creazioni di artisti e artigiani del territorio che spaziano dalla scultura alla pittura, dall'arte liutaia alla gastronomia. La giornata di oggi ha visto, tra gli altri, la partecipazione del consigliere regionale Silvio Paolucci. Il direttore di CNA L'Aquila, Agostino Derre, commenta l'iniziativa. Facciamo dell'Aquila una città degna della sua storia e della sua cultura affinché non si parli solo di terremoto, ma si parli anche di città viva. E la città viva la dobbiamo rappresentare con la realtà e con questo evento che rappresenta un insieme di pezzi unici. Ecco quella è la realtà che noi siamo. E anche da emozioni, emozioni che fa capire alle persone cosa è in grado di fare. Tutti quanti siamo in grado di pensare in cose belle, però poi ci sono le mani che parlano. L'artigiano quando realizza un'opera ci mette prima il cervello, poi le mani e poi ci mette fondamentalmente il cuore. E questa è una cosa che differenzia l'un elemento dall'altro.